Il nostro intento è quello di collegare le piste ciclabili del Fenile con quella dell'Interquartieri. Ovviamente è in corso una sperimentazione che durerà fino a dicembre, quindi ci sarà tempo per apportare tutte le migliorie che saranno necessarie. Oggi abbiamo valutato di migliorare la sicurezza dell'incrocio tra via Montenerone, via della Fornace e la strada dei quartieri. Quindi ovviamente siamo aperti a tutte le soluzioni per migliorare la sicurezza di quella sperimentazione. Però si tratta di una sperimentazione, quindi tra 20-30 giorni, come abbiamo fatto all'inizio quando abbiamo fatto un'assemblea pubblica non tanto partecipata, ma comunque partecipata da alcuni cittadini nella quale abbiamo discusso il progetto, ne faremo un'altra per valutarlo tra un paio di mesi in maniera tale che la gente si possa abituare e possa capire anche i vantaggi e gli svantaggi, le pericolosità oppure i miglioramenti della sicurezza di quella sperimentazione. In ogni caso non potevamo non completare quella che è stata la pista ciclabile del Fenile e lasciare in mezzo alla strada tutti quelli che vengono dal Fenile. Quindi questo è l'animo che ci ha fatto preparare questa sperimentazione. Ovviamente non ci sono cordoli, ci sono i New Jersey perché si possono rimuovere, altrimenti non sarebbe stata una sperimentazione. Abbiamo fatto le righe intera perché ovviamente devono starci e quelle si possono cancellare. Potremmo anche scegliere di spostare la pista da destra a sinistra o viceversa. Quindi voglio dire che siamo molto aperti a qualsiasi cambiamento.